Ci hai fatto vivere mezz'ora, veramente bella, nel ricordo di Giuseppe Tontodonati e della sua poesia, ma soprattutto ci hai fatto ripercorrere al ritroso tante pagine della nostra storia paesana, fatta di personaggi e eventi, e di questo noi ti saremo eternamente grati. Quando avevamo parlato di questo progetto insieme agli amici, lui no, come al solito dice no, no, è una cosa che non si può fare, no, assolutamente no, qua e là, e invece, come vedete, ne è uscito alla grande, perché lui è un grande. Giustamente, come suggerisce Carlo, è una memoria storica del nostro paese. Grazie a tutti.